Ebbene sì, la notizia di oggi è veramente importante per tutti gli appassionati di criptovalute Elon Musk tramite la sua Tesla ha annunciato di aver acquistato 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin Ciao, sono Zanaditurbola.it e nei prossimi minuti vorrei fare il punto su questa notizia importantissima che avrà sicuramente una serie di ramificazioni sia nell'immediato sia nel prossimo futuro Bene, iniziamo subito quindi la notizia, eccola qua Tesla ha appunto investito 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin la comunicazione ufficiale è questa è appunto un documento ufficiale che Tesla ha dovuto rilasciare alla Security Exchange Commission quindi la commissione che supervisiona l'andamento delle azioni in borsa per comunicare un po' come sta utilizzando i propri denari per farla molto breve e da questo documento apprendiamo appunto che la Tesla di Elon Musk ha investito 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin ma c'è di più, oltre all'acquisto iniziale hanno infatti comunicato che durante tutto l'anno continueranno a diversificare il proprio investimento acquistando una serie di asset in particolare nel documento hanno parlato sia di Bitcoin, della possibilità di acquistare altri Bitcoin ma anche della possibilità di investire in lingotti d'oro e altri materiali preziosi questa è la prima parte della notizia perché ce n'è un'altra altrettanto importante ovvero hanno comunicato che inizieranno a breve ad accettare Bitcoin come forma di pagamento per acquistare le loro automobili inizialmente hanno precisato sarà su una base limitata quindi non sarà possibile per il grande pubblico però per alcuni acquisti selezionati sarà appunto possibile acquistare Tesla in Bitcoin ora non è del tutto chiaro che cosa faranno con questi Bitcoin che riceveranno come pagamento per le loro automobili hanno precisato che potrebbero scegliere di liquidarli subito quindi trasformarli in dollari oppure di tenerli per il lungo periodo questa dichiarazione permette appunto all'azienda di fare entrambe le cose a seconda di quello che riterranno più strategico nel momento in cui apriranno questo tipo di pagamento queste due notizie insieme hanno come dicevo delle ramificazioni importanti innanzitutto nel brevissimo periodo abbiamo già iniziato a vederle oggi Bitcoin solo nella giornata di oggi ha fatto un pump tremendo eccolo qua il nostro Bitcoin ha superato il 14% di valorizzazione solo rispetto a ieri che ha portato il totale di Bitcoin ad aggirarsi attorno ai 43.000 dollari un prezzo sicuramente una valorizzazione importante che tra l'altro porta il prezzo di Bitcoin sopra al precedente massimo e che apre sicuramente le porte per un Bitcoin a 50.000 dollari perché questa è probabilmente la prossima resistenza psicologica che si prospetta all'orizzonte l'altro impatto nel brevissimo periodo questa notizia l'ha avuta sugli exchange perché sono andati un po' tutti in tilt e non si riesce più ad accedere non si riesce più a fare compravendite perché chiaramente questa notizia ha scatenato un grandissimo interesse da parte del pubblico e quindi tutti ci sono lanciati sugli exchange chi per vendere e chi per comprare a seconda delle proprie posizioni però questi problemi chiaramente sono sul breve periodo ci aspettiamo che già dalle prossime ore vengano risolti perché mano a mano potenzieranno le strutture e calerà parallelamente il traffico e quindi le cose torneranno alla normale quello che invece non tornerà alla normalità su un lungo periodo è l'impatto che questa notizia dell'acquisto di Bitcoin da parte di Tesla avrà sulla percezione di Bitcoin innanzitutto ci sono diversi impatti importanti innanzitutto per quanto riguarda l'adozione Tesla come sappiamo non è l'ultimo negozietto di paese come abbiamo detto vari esperimenti sono stati fatti ma probabilmente erano più a scopo pubblicitario no è un'azienda ben posizionata con un capitale importante e che aprendo la possibilità sia di investire in Bitcoin sia anche la possibilità di comprare le proprie automobili tramite BTC legittima anche l'uso di Bitcoin e quindi inizia l'adozione veramente potrebbe essere uno scalino importantissimo uno step importantissimo nell'adozione sulla larga scala di Bitcoin e Tesla pare proprio averlo sdoganato il secondo punto da tenere a mente è che proprio un'azienda così grande che apre le porte a Bitcoin cambia anche la percezione del pubblico del grande pubblico che fino adesso magari ha visto Bitcoin solo come una truffa come uno schema Ponzi come un mezzo per riciclare denaro sporco e per fare delle attività illegali come tutte quelle cose negative che abbiamo letto nei giorni scorsi ebbene ora che Tesla ci entra con tutti e due i piedi probabilmente ci sarà un piccolo cambio di percezione verso anche questa moneta si tornerà a capire che probabilmente Bitcoin è una moneta esattamente come può essere il dollaro e come tale può essere utilizzata per cose positive o per cose negative sempre in termini di percezione c'è anche da capire il motivo per cui Tesla stia facendo questo investimento il motivo è probabilmente sempre il solito ovvero stanno cercando uno store of value quindi un deposito di valore che abbia la possibilità di mantenere il proprio potere d'acquisto su un lunghissimo periodo cosa sta succedendo? come chiunque segua il mercato azionario probabilmente sa Tesla ha avuto un'impennata nel valore delle proprie azioni negli ultimi anni questo fa sì che abbiano a disposizione un enorme bacino di liquidità e di moneta che in questo momento probabilmente stanno in grande parte sicuramente reinvestendo ma che probabilmente hanno anche bisogno di mettere da parte per il lunghissimo periodo ebbene questa mossa di Tesla come avevamo già detto qualche tempo fa è l'ennesimo esempio di persone che credono persone e aziende in questo caso aziende molto rinomate che credono che Bitcoin possa essere un store of value quindi un deposito di valore molto più efficace di quello che può essere ad esempio il tradizionale dollaro oppure l'euro d'altra parte piccola parentesi come dare torto a queste aziende d'altra parte gli Stati Uniti stanno stampando dollari in continuità stanno stampato triliardi di dollari e quindi sicuramente la possibilità che arrivi una forte inflazione sul dollaro è assolutamente reale quindi probabilmente diversificando in questo modo Tesla spera di poter conservare meglio una parte del valore del proprio capitale tutto ciò ci porta a un Bitcoin che ha superato la soglia degli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione se prendiamo presente che è appunto il numero dovrebbe essere circa 818 contro un 823 miliardi di Tesla stessa quindi scappiamo che la capitalizzazione totale di Bitcoin è vicina alla capitalizzazione di Tesla ho letto un articolo proprio poco fa in cui dicevano che ci sono solo 7 aziende private al mondo che hanno una capitalizzazione maggiore di quella di Bitcoin un altro dato molto interessante ho dato un'occhiata poco fa la capitalizzazione mondiale dell'argento è di 1,5 triliardi quindi gli 818 miliardi di capitalizzazione di Bitcoin non sono troppo lontani anche se sicuramente sono ancora inferiori però non sono troppo lontani alla capitalizzazione totale dell'argento rimaniamo invece lontanissimi dall'oro tanto per avere un altro metro di paragone che l'oro ha una capitalizzazione totale di 12 triliardi di dollari quindi qui siamo a meno di un triliardo per arrivare alla capitalizzazione dell'oro ne rimane ancora un bel po' di strada da fare quindi notizie sicuramente positive dal fronte Elon Musk però non posso far a meno di fare una piccola critica al nostro buon Elon del quale sono un grandissimo estimatore mi piace moltissimo quello che sta facendo su tutti i fronti lo ascolto sempre quando parla in pubblico e si capisce proprio che è un visionario ed è un genio mi piace moltissimo però non posso far a meno di criticarlo per l'azione che sta facendo di Pump su Dogecoin come avete visto probabilmente in questi giorni dal suo Twitter sta facendo un pompamento fortissimo di Dogecoin facendo schizzare spesso il prezzo alle stelle chiaramente Elon esce, fa il suo tweet, il prezzo decolla la gente comincia a comprare e chiaramente sta zitto per qualche giorno e il prezzo riprecipita sui livelli precedenti se non addirittura sotto lasciando un sacco di persone ho letto anche su Reddit veramente con un pugno di mosche leggevo addirittura di uno studente che si è mangiato tutti i suoi risparmi universitari perché ha comprato Doge quando era al massimo ora come sapete io avevo fatto un video qualche tempo fa io personalmente reputo Dogecoin un pessimo pessimo investimento ragazzi state alla larga secondo me perché a meno di questi pump and dump non c'è nessun valore su Dogecoin vi ricordo che Dogecoin era stato creato dal buon Jackson Palmer un ragazzo bravissimo, un programmatore molto abile ma l'aveva lanciato come un meme coin quindi come uno scherzo, come un gioco su Dogecoin non ci sono più sviluppi ormai attivi dal 2015 e ha un'inflazione pazzesca perché ogni giorno vengono create qualche miliardo di monete nuove ora cosa sta succedendo? si stanno buttando tutti su Dogecoin semplicemente perché appunto era nato come uno scherzo e lo stanno pompando come scherzo il problema è che scherza oggi, scherza domani la capitalizzazione di Dogecoin sta crescendo moltissimo è arrivato ormai in decima posizione fra le criptovalute più popolari ma questo non cambia che sia una criptovaluta scherzo senza fondamentali che non viene aggiornata da ormai 5 anni che sono un'eternità in questo settore quindi ragazzi di nuovo per quanto mi riguarda critico moltissimo Elon Musk per il pompamento che sta facendo appunto di Dogecoin e d'altra parte si stanno mettendo tutti in coda anche i personaggi famosi infatti ho trovato questa notizia in cui Snoop Dogg il rapper americano si è rinominato in Snoop Doge tanto per pompare un altro po' Dogecoin anche lui sempre però lo fanno sempre con questo tono probabilmente di scherzo vogliono probabilmente scherzarci sopra però il risultato finale è che ogni volta che una di queste celebrità pompa Dogecoin il prezzo decolla fino ad arrivare ai livelli odierni che sono di fatto prossimi ai 0,8 l'ultima volta che avevo guardato si eccolo qua 0,8 dollari abbiamo già superato i massimi storici e quindi di nuovo siamo di fronte a una criptovaluta iperpompata quindi ragazzi per quanto mi riguarda attenzione a queste cose Bitcoin va bene tutto il resto metteteci sempre parecchia attenzione e Dogecoin per quanto mi riguarda state nella larga bene da Zanaditurbola.it è tutto come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace per me sembra molto importante grazie davvero se troverai un minuto per farlo per tutto il resto i commenti qua sotto sono a disposizione fammi sapere che cosa ne pensi di questa ultima azione di Elon Musk se sei felice che Tesla abbia comprato Bitcoin se credi che abbiano sbagliato se vuoi criticare la mia posizione su Dogecoin per tutto quello che ti viene in mente i commenti qua sotto sono sempre a disposizione al prossimo video ciao